Il Museo delle Palafitte compie dieci anni ma in un contesto nel quale l'anno scorso abbiamo inaugurato dopo un periodo comunque difficile, ancora legato alla pandemia, anche il parco archeologico proprio qui a Favè per alimentare, per far sì che tutta la zona possa veramente fare un lavoro per quanto riguarda la cultura in un contesto sempre più lanciato su quello che vuole essere l'offerta del nostro territorio che coniuga quello che è l'aspetto fondamentale del turismo con quello della cultura. Perciò la cultura proprio come volano di conoscenza del nostro passato ma anche come sviluppo economico del nostro territorio. Dopo due anni difficili nei quali le scuole non hanno potuto portare molto spesso i ragazzi a visitare quelli che sono i nostri luoghi, luoghi della cultura del nostro territorio e anche fuori ovviamente dalla nostra provincia ripartire con quelle che sono le attività fatte nel nostro territorio in luoghi come questo, come nel parco archeologico qua penso che sia assolutamente fondamentale all'aria aperta riscoprendo quelle che sono le caratteristiche e le bellezze del nostro territorio.